Cari amici, anche oggi realizziamo questo video per far vedere l'oggetto a 360 gradi. Stiamo parlando di questa pochette da viaggio e anche portatrucchi. Allora, faccio vedere... Allora, i colori disponibili sono il nero, marrone e beige. Questo colore fanno. E allora, faccio vedere com'è composta all'interno. Vedete? Realizzo il video per far vedere l'oggetto a 360 gradi e vedere così com'è composta. Vi do anche le misure. E allora... Le misure sono... Allora, abbiamo... Abbiamo 17 centimetri, una larghezza di 9 centimetri e come altezza... Come altezza 17 centimetri. Il tutto viene spedito tramite Corriere SDA. Per qualsiasi informazione mi potete contattare. Niente, questo è tutto. Un saluto alla prossima. Ciao da Giuseppe.